Annuncio a sorpresa della grandissima artista italo-americana Madonna. Ha infatti rivelato sui social di essere stata contagiata dal coronavirus. Attraverso un video postato sul suo profilo ufficiale Instagram, ha affermato, sono stata contagiata dal Covid-19. Non ha fornito però altri dettagli, quindi non si sa con esattezza se abbia manifestato dei sintomi particolari della malattia o se ci siano state delle conseguenze. L'ipotesi più plausibile è che lei faccia parte degli asintomatici.La cantante sta trascorrendo la sua quarantena sin dallo scorso 16 marzo in Portogallo, in compagnia dei suoi figli. Nel filmato in questione, appare mentre è seduta di fronte ad una macchina da scrivere. Da quel che si comprende, potrebbe essere stata sottoposta al test sierologico. La popstar ha infatti dichiarato, ho fatto un test l'altro giorno e ho scoperto di avere sviluppato gli anticorpi al coronavirus. Quindi sono stata contagiata dal Covid-19. Tantissimi i commenti lasciati sotto al suo post dai suoi innumerevoli fan, che si sono preoccupati moltissimo. Ma le sue condizioni appaiono più che buone e non è da escludere che si sia infettata in passato e quindi che abbia superato la patologia senza nemmeno accorgersene. Poi Madonna ha fatto un altro annuncio.La musicista 61enne non ha aggiunto informazioni su come potrebbe essersi contagiata, ma ha manifestato l'intenzione di voler uscire maggiormente dalle proprie mura domestiche. Domani farò un lungo viaggio in macchina, abbasserò giù il finestrino e respirerò l'aria. Sì. Spero che il sole splenda, ha concluso. Madonna, come è successo a tantissimi altri suoi artisti, ha cancellato il suo tour Madame X' che avrebbe attraversato numerose nazioni del continente europeo. Non avrei potuto pensare ad una persona migliore per trascorrere la quarantena, aveva postato. Ad anticipare le indiscrezioni di una sua relazione amorosa era stato il tabloid inglese Sun.